E' terminata la lunga attesa per la Dalia Management. Finalmente nello scorso weekend la squadra di calciacinque è tornata a Moschiano per giocare al centro sportivo Nunziante Scibelli. Dopo aver raggiunto l'accordo con i gestori dell'impianto, la società si appresta a realizzare dei lavori per rendere la struttura già molto moderna, ancora più accogliente per tifosi e appassionati. Nella prima sfida i padroni di casa sono stati sconfitti da casa al nuovo. L'impianto è apprezzato molto dal tecnico Ivan Orangers che ha allenato anche in categorie superiori. Molto, molto contenti di giocare in casa a Moschiano e di giocare in una struttura così bella. Ma questa è una struttura in cui si può fare tranquillamente un campionato di Serie A con una buona tribuna, si potrebbe cambiare a fare un bambino di Serie A. È chiaro che stiamo fantasticando in una creazione, però è una bella struttura, da soddisfazione, si allena bene e quindi siamo contenti di giocare a Moschiano. Cerchiamo di migliorare un po' quelli che sono i risultati e di migliorare la classifica.